ma quanto è buono facile e veloce da fare il pesce spada arrostito io lo faccio così facciamolo insieme iniziamo per prima cosa dopo averlo lavato asciugo bene bene il pesce tamponandolo sia sui due lati principali che sui bordi bene bene poi metto l'olio extravergine in un bicchiere il pepe nero il prezzemolo tritato mescolo bene bene e tengo da parte a questo punto accendo la fiamma sotto la piastra e dopo un paio di minuti quando sarà caldissima metto il pesce e lo faccio cuocere per circa due minuti e mezzo per lato quando sarà cotto lo impiatto metto il sale poi aggiungo il pinsimonio fatto in precedenza qualche gocciolina di limone ancora un po di prezzemolo ed eccolo qua guardate che bello e soprattutto quanto è buono mamma mia